Nelle intercettazioni cappatate si parlava di ambasciata, caffè e biscotti. In realtà però le conversazioni ascoltate dai carabinieri erano messaggi in codice della rete di spacciatori sgominata all'alba. Sono 18 le persone indagate nel blitz che ha disarticolato la gang della droga del rione Poverelli di Torre Annunziata. Detenzione spaccio di droga, soprattutto cocaina, estorsione e detenzione di armi, alcuni dei reati contestati da procura e carabinieri o plontini. Ben 60 i capi di imputazione firmati dal GIP, 58 dei quali riguardanti la droga. Le indagini, partite nel dicembre 2018 dopo un agguato, hanno ricostruito una fiorente attività di spaccio composta da corrieri minorenni che consegnavano la cocaina anche a domicilio. Gli acquirenti, come ricostruito dagli investigatori, arrivavano da tutta la provincia di Napoli. A proteggere il furtino criminale, una fitta rete di videosorveglianza abusiva. Tra gli spacciatori risultano inoltre anche persone ristrette e domiciliari. E per chi non pagava, scattavano le ritorsioni e le minacce per farsi consegnare i soldi della droga. Per 16 degli indagati, 5 dei quali già in carcere, è stata disposta la custodia cautelare. Uno di essi è latitante e ricercato dai carabinieri. Mentre per due donne, madri di bimbi piccoli, è scattato il divieto di dimora in provincia di Napoli. Quattro presunti pusher percepivano anche il reddito di cittadinanza. Avviate le procedure per la revoca del beneficio.